Galano sul lato corto dell'area di rigore scarica dietro per Donati il sinistro del capitano un pallone completamente fuori misura lontanissimo dallo specchio della porta di Alex Kordaz Rivaldo rientra sul destro ecco il cross dentro Donati la parata di Kordaz palla gol per il Bari al ventunesimo minuto il pallone dentro l'area di rigore il colpo in testa tentato da Martinelli di Roberto palla nel mezzo attenzione la porta è vuota Job è il vantaggio del Cittadella con Thomas Job al trentottesimo minuto uno contro uno vincente con Di Roberto Donati palla di ritorno ancora per Rivas Rivas! che parata di Kordaz Busellato prova ad aprire dall'altra parte sta arrivando Di Roberto con il sinistro Cittadella vicino al 2-0 Galano adesso il colpo di tacco gran giocata il cross di Cepitelli palla nel mezzo Rivas ancora Rivas scorda Zunamano Bogliassino è il pareggio del Bari con Mariano Bogliassino 1-1 al quinto minuto va con il suo destro che botta di Schiavonne che sfiora l'incoroccio dei pali Vito Francesco c'è spazio centrale per lui poi Ma attenzione alla velocità di Robert Ma se ne va Ma palla sul sinistro Ma e la palla finisce fuori De Falco ripropone per Marotta sull'otto corto dell'area di rigore il cross arretrato c'è Donati con il sinistro Donati 2-1 Bari al 32esimo minuto Palla dentro per Ma in area di rigore Ma il pallonetto super gol di Robert Ma 2-2 al 35esimo un grande gol Fischi la fine al San Nicola e 2-2 Un punto che non risolve la questione per nessuna delle due squadre e stiamo per sentire Foscarini prima di sentirla però Foscarini abbiamo intravisto mentre vedevamo tutti gli highlights che le diceva la palla era fuori allora ci togliamo tutti il dubbio vediamo se riusciamo a capire se quella palla veramente fosse uscita se no parliamo del gol del pareggio del Bari Alessandro Costa Curta abbiamo voluto vedere se c'è una ripresa particolare per capire Sì abbiamo questa ripresa particolare sembrava probabilmente fosse uscita in realtà abbiamo queste immagini dei nostri fantastici tecnici che confermano che la palla invece era rimasta era rimasta dentro insomma ecco credo che possa essere confermato il gol adesso non so se Giusto e quindi Foscarini se tutto il dubbio è così come ce lo siamo tolti noi perché è la prima volta che qua tutti insieme riusciamo a vedere questa immagine andiamola da Foscarini da Federica Amazonin Federica Stavamo commentando anche noi questa azione ha detto dalla panchina non ci sembrava uscita il portiere ha insinuato qualche dubbio adesso ha visto le immagini no se queste sono le immagini se la tecnologia dimostra che è questa cioè la palla non è uscita completamente c'era il portiere che era molto vicino sosteneva sosteneva che la palla era uscita così non sembra però va bene era un episodio che ero curioso di vederlo tutto qua non è che poi a volte sia determinante valutare queste situazioni ecco se questa è l'immagine è perfetta diciamo dalla fine per analizzare invece questa partita lei non ha sentito le parole di Busellato centrocampista classe 93 per chi non lo conoscesse aggregato alla prima squadra dalla primavera lui ha detto eravamo venuti qua per vincere bella personalità di questo giocatore molto giovane era questo l'intento del Cittadelle soprattutto è soddisfatta la personalità dei suoi ragazzi questa sera sì tutto sommato sì noi eravamo venuti qua convinti con la voglia di fare il risultato poi è difficile entrare in campo sempre e andare su un campo e vincere perché ci sono anche gli avversari però ecco la convinzione di venire qui e fare il risultato questo c'era io ero convinto come si era messa nel primo tempo che potevamo portare a casa i tre punti perché la squadra doveva stare un attimino più attenta soprattutto all'inizio del secondo tempo fare meglio una fase difensiva soprattutto sugli esterni concedere poco e ripartire ecco questa situazione non siamo riusciti a farla riportarla sul campo un po' di rammarico c'è anche se dico bravi ragazzi perché questa partita si poteva anche perdere Roberto a studio chi vuole iniziare Nicola forse il rammarico mister più grande è nel primo tempo laddove Cittadella ha cominciato benissimo ha giocato meglio con più idee del Bari e forse lì potevate magari chiudere la partita con un secondo gol ecco sì credo di sì perché noi in effetti sì Nicola in effetti ci siamo detti questo tra il primo e il secondo tempo attenti e poi cerchiamo cerchiamo anche le azioni siamo propositivi perché abbiamo la possibilità anche di cercare di fare il secondo gol era questa l'intenzione perché le premesse erano buone poi sapevamo anche che il Bari avrebbe premuto e dovevamo stare molto attenti soprattutto sui laterali perché loro nel uno contro uno sono bravi però ecco non siamo riusciti a avere un equilibrio in questo senso fare un'ottima fase difensiva e ripartire perché eravamo nelle condizioni ideali per far male io voglio sapere se è più contento di aver ritrovato un po' il suo cittadella rispetto alla sconfitta interna contro il Crotone o più arrabbiato forse per l'atteggiamento iniziale perché è vero ha subito il gol dopo quattro minuti però nei due episodi poi del gol non ho visto una difesa attenta come invece lo è stato a mio parere per tutto il resto dei 90 minuti si hai ragione è questo un po' che se c'è un punto da fare l'inizio del secondo tempo perché noi c'eravamo promessi di partire essere molto attenti in fase difensiva negli uno contro uno in tutte le situazioni di darci una mano di raddoppiare su certe situazioni e credo che abbiamo subito troppo vedendo anche il primo tempo come avevamo giocato come si muoveva la palla c'era anche la possibilità ripeto anche di andare così di raddoppiare purtroppo non siamo riusciti anche per merito del Bari sicuramente che è partito molto bene però qualcosa è mancato alla mia squadra il ramarico è soprattutto questo grazie grazie a Foscareni grazie anche a Federica Masolin grazie il Bari invece Nicola un Bari che insomma il partito l'abbiamo visto non benissimo fischiato anche da qui pochi spettatori che c'erano a San Nicola questa sera durante il primo tempo sì un Bari da due facce perché il primo tempo proprio non non riusciva a costruire confuso e il Cittadella ha giocato molto meglio e ripeto secondo me è lì che la partita con l'ingresso di Bogliacino con più qualità si vedeva Rivas saltare meglio l'uomo i giocatori di qualità hanno fatto un pochino la differenza poi trovare subito il gol dopo 5 minuti ha dato più fiducia il Bari ha giocato decisamente meglio e sul 2-1 peccato perché erano dei punti importanti il Cittadella ci ha creduto più in fondo un paleggio giusto concordi Salvatore quando Daniele Barone e Claudio Nofri hanno detto un pareggio giusto intanto che ci siamo divertiti alla fine 2-2 4 gol avevamo detto all'inizio non segnerò mai non segnerò mai in difesa eccetera eccetera invece alla fine ci siamo divertiti 4 gol vantaggio prima Cittadella poi insomma ha rimontato il Bari questo in realtà è chiaro il risultato direi assolutamente è più che giusto sì sì primo tempo appannaggio di Cittadella il secondo tempo ha fatto un pochino meglio il Bari direi come dicevi te all'inizio nella tua premessa un punto che soprattutto fa comodo al Cittadella molto meno al Bari che da questa partita doveva uscire necessariamente con i tre punti a mio parere tra poco andremo all'Olimpia c'è Torrente con noi buonasera Torrente parlavamo del fatto che noi ci siamo divertiti nel vedere questa partita crediamo lei si sia divertito di più fino al 2-1 Federica buonasera buonasera sì infatti fino al 2-1 bene poi stavamo ancora festeggiando e abbiamo commesso un'ingenuità abbiamo preso a dieci minuti alla fine un contropiede quindi abbiamo pagato questa disattenzione con un po' più di attenzione potevamo anche vincere la partita anche se il risultato il pari è il risultato più giusto visto nel primo tempo noi abbiamo giocato molto molto contratti molti errori individuali sulla manovra e il Cittadella ha fatto meglio meglio di noi noi il secondo tempo grande reazione di carattere con l'inserimento di Boiasino gli hanno dato un po' più di qualità e peccato 2-1 ripeto con un po' di di attenzione non si può prendere un gol in contropiede a dieci minuti dalla fine in casa quanto fa male a lei e ai ragazzi vedere un San Nicola così poco pieno fa male ma questo dipende da noi dalle nostre prestazioni a dare entusiasmo alla gente in questo momento non ci sono i risultati ci aspettavamo tutti siamo anche in grande emergenza da un po' di tempo con tanti infortuni e oggi le scelte erano obbligate i ragazzi hanno dato tutto ripeto peccato nel 2-2 Roberta Alessandro prima volevo fare i complimenti a Torrente credo che abbia la mia stessa età ma in forma strepitosa complimenti e poi sono d'accordo su Bogliaccino perché oltre a dare qualità secondo me ha dato anche personalità che dopo un primo tempo come quello probabilmente hai azzeccato la scelta però io voglio farti vedere il gol preso perché secondo me c'è un errore c'è un errore abbastanza direi quasi fondamentale perché probabilmente ha letto male la traiettoria poi in realtà sono stati bravi anche quelli del Cittadella però probabilmente l'errore iniziale di Polenta probabilmente poteva essere fatto meglio sicuramente sicuramente la postura di Polenta era era messo male col corpo era una lettura secondo me anche facile vuole dire quello si è vero l'ha letta male con una postura sbagliata Salvatore volevo chiedere c'è la possibilità di vedere da gennaio Castiglio Cutuzzo o uno dei due insomma si è letto anche questo in settimana volevo sapere se lei aveva qualche informazione in merito e poi durante la settimana c'è qualcuno della società della dirigenza che viene magari a vedere gli allenamenti a parlare con lei insomma questo per noi è interessante capirlo sì c'è la presenza direttore sportivo l'amministratore delegato quindi la società è vicina sì la società è vicina poi per quanto riguarda Castiglio Cutuzzo e dieci giorni che si allenano con noi stiamo valutando vediamo se a gennaio possono essere ma soltanto a gennaio potrebbero già giocare da sabato prossimo da domenica non è possibile questo perché non sono nella lista erano fuori rosa erano fuori lista certo sì sì fuori lista buonasera mister sono Ventola ciao io volevo chiedere più che altro di insistere dal punto di vista mentale perché si vede proprio che questa squadra comunque le qualità ce le ha quando si è sbloccato subito il secondo tempo dopo il gol di Boiacino si è visto proprio un altro Bari con più qualità proprio saltava l'uomo Rivas Boiacino ecco mi auguro che lei faccia questo lavoro perché le qualità ci sono da sbloccare mentalmente perché il primo tempo sembravano veramente contratti molto contratti sai cosa vuol dire infatti molti ragazzi vengono dalla C qualcuno ha la prima esperienza e quindi ci vuole più personalità giocatori di personalità come Boiacino come Rivas come Donati infatti hanno dato e come mai non dal primo minuto Boiacino scusa come mai non dal primo minuto Boiacino non era in perfetta condizione è stato un mese e mezzo fuori si è allenato appena una settimana con noi e quindi ho cercato poi di metterlo dentro anche quando gli altri erano stanchi c'era bisogno comunque di qualità grazie Torrente sì prego abbiamo perso Torrente credo che Torrente non ci senta comunque lo ringraziamo e ringraziamo anche Federica Masolin abbiamo visto Edireia sorridere un grande sorriso da parte di Edireia non potrebbe